La statale 106 è una strada extraurbana di categoria C che collega la città di Reggio a Taranto in Puglia per una lunghezza complessiva di 491 km e si sviluppa lungo la costa Ionica. Nel dettaglio dei chilometri totali 39 sono in Puglia, 37 in Basilicata e 415 in Calabria. E' stata la prima strada statale costruita in Calabria, nata con un provvedimento del 1928. Dei 491 km calabresi, 132 sono nella provincia di Reggio, 86 di Catanzaro, 77 di Crotone e 120 in provincia di Cosenza. E' la strada più lunga della Calabria. Nel 2016 con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti è stato deciso il superamento della legge obiettivo e la programmazione delle infrastrutture. Il tutto è stato demandato a due strumenti fondamentali, il piano generale dei trasporti e della logistica e il documento pluriannale di programmazione. A questi si aggiunge la project review per rivedere le opere già decise ed avviate con le procedure della legge obiettivo, rivedere le scelte pregresse in funzione delle mutate condizioni dello scenario infrastrutturale di riferimento. Sarà questa una delle cause per cui ancora oggi non molti cantieri sono stati avviati.